Ciao, dimmi. Allora, volevo fermi martinizzare il telefono. Sì. Allora, me la devi spiegare questa. Da quanti anni ce l'hai? Tipo due. Tipo due. Ok, quindi non si è appassionata di change cover e pellicole. E ci sta. Ma questa? Io ora ve la faccio vedere meglio. È questa. Guardate la cover. Gialla. Gialla. Come la mia faccia quando vedete l'iPhone così. Alla fine cambia colore. Allora, tesoro. Siamo a smontare tutto. Ok. Si fa un po' schifo, effettivamente. Orrore. Grazie. Ah, sia chiaro, voglio chiedere una cosa in questo video. A me tutte le cose invecchiate e brutte, non mi piacciono. Mo' che sia un prodotto di un altro, oppure un prodotto mio che magari è invecchiato, mi fa venire il volto a stomaco. Perché il telefono deve essere sempre impeccabile. Perché il nostro obiettivo è la tua visita. Ok? Allora, mamma mia. Lucida, opaca, opaca, privacy, lucida, privacy, la pellicola. Lucida, opaca. Lucida è così effetto viso. Sì. Opaca è effetto satinato. No, no, lucida. Lucida semplice. Sì. Con privacy o senza? Con privacy. Ma perché no? Con privacy. Perché no? Yes. Ok. Allora. Dove sei tesoro? Milano. 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 Bella Milano, lo sai? Mi piace tanto. Sei stata? Ah certo, lo stesso. Per lavoro ovviamente, ma per... Ciao. Ciao. Che cos'è? Che cos'è? Lui è arrivato un pacco. Ho ordinato qualcosa e non lo so, ho ordinato qualcosa e non lo so, che c'è? Ragazzi. Cioè. Vi prego, la mia, la mia, non si spacca. La vita, credetemi. Questa vi cambierà la vita. La nostra ceramica da 9,99. La pellicola era lucida, ma le vedevo opaco. Giuro. Allora. Ovviamente prima di iniziare il video io lo dico al cliente, non si deve offendere, perché io scherzo. È giusto per ridere, ragazzi. Perché noi siamo persone che prendiamo la vita alla leggera, dobbiamo sorridere, dobbiamo essere felici. Allora. Quindi andiamo a mettere una bella lucida preva. Se la copera hai detto, ti piaceva quella ala verde? Sì. Che capo, il piacere mi vuoi prendere una shock verde, 13 pro. Allora andiamo a mettere la nostra ceramica lucida da 9,99. A duro. Ti faccio vedere il cambiamento del tuo telefono. Vi diamo proprio nuova vita. Mi serve uno sticker, qualche bolla di polvere, le mie preferite. Sapete? Ok. Quanti giorni state a Napoli? Adesso siamo due giorni. Voi vi divertirete. La parola è molto bella. La prima volta che venite? Sì. Cioè io sì. Sì, c'erano tutte. Oh ma siete tutte bionde. Che bello. E poi sono naturali, ecco. Il sole di Milano ci scherisce. Il sole è forte di Milano. Tutte bionde, tutte belle. Ragazzi, ragazze. Saranno degni delle proprietarie. Dovete vedere io come sono brutta bionda. Allora ragazzo, lo giuro. Ah, l'hai fatta bionda? No, bionda ma è bionda completa. Fici tipo delle schiariture nei capelli ma anni fa. Anni fa ma brutta. Brutta proprio. Orribile. Infatti ho deciso di rimanere al mio colore naturale. Magari ci scuriamo ma non ci schiariamo perché sto guai. Ok. Ma io bionda sono orribile. Ok. Perché poi avevo anche i capelli corti. Orribile, ragazzo. Ma chi è lice o vuoi essere liceo? Ma chi è liceo? Ma non volevo essere bionda, chiesi. Solo di schiarire un po' di più il capello. Ah, ok. È il sole di qua. Il sole di qua. È un gioco. Che giorno mi prenderò il giro da sola su TikTok e metterò le mie foto da bionda. Ok. Bella mia. Bella. Che giga. Pura pelota. Sì. Ok. Risultato finale. Dammi questa. Prima, dopo. Martinizato. Lucida, privacy da 9,99. Martishock semplice con protezione alle fotocamere sempre da 9,99. Che ne pensi? Stupenda. Ci voleva. Ci voleva. Ok. Anche lei l'ha ammesso che ci voleva. Ecco qua. Adoro. Ciao amici. E buttate via le vostre governe e pellicone d'arrurre. Grazie.